Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi è arrivato a casa il secondo ordine che abbiamo fatto, il secondo acquisto, dal sito nostro sponsor con cui collaboriamo ormai da un po' di tempo, la GiocoLibreria Semola, vedete sempre il link in sovraimpressione, lo trovate sempre in descrizione in tutti i video di Wargame e soprattutto di giochi della GV. È arrivato oggi il secondo ordine, abbiamo comprato altri colori, ovviamente perché iniziando ad avere un bel po' di giochi li vogliamo anche colorare per presentarvi l'armeglio, in più c'è arrivato qualcosa perché abbiamo iniziato, ovviamente tutto quanto acquistato, pagato con bonifico, sempre utilizzando, non ve l'ho dimenticato, lo sconto Coridan 7 per avere un 7%, l'abbiamo usato anche noi per comprare queste cose e avendo trattato Warcry, che detto c'erano gli Untamed Beast e gli Iron Golem, quindi due eserciti, ma noi siamo in tre perché ora l'avete visto anche il mio amico Pippo, ha iniziato a collaborare regolarmente e poi lui è fanatico della GV, più di me e mia moglie messi insieme, è una vita che veramente gioca a qualsiasi cosa. E sicché gli Untamed Beast l'ho preso io, adoro i barbari, Conan il Barbaro, cosa del genere, i vecchi barbari che combattevano col caos del vecchio mondo, Pippo si è preso gli Iron Golem e mia moglie, poverina, è rimasta insieme, sicché abbiamo ordinato i Corvus Cabal, che sono veramente belli da morire, però penso che successivamente ne prenderemo altri due, perché mia moglie voleva anche le Daughters of Cain e io sono innamorato, per me l'esercito più bello dell'Age of Sigmar sono i Night Taunt, sono la Briar Queen, gli spettri, le anime dei dannati, quindi sicuramente faremo un altro acquisto, perché devo dare merito a Corrado, che ce l'ha inviato sponsorizzandoci la copia di Warcry, mi ha detto, vai tranquillo, l'avamo approvato, vai tranquillo, ti piacerà, Corrado, ti do ragione, perché ci è venuto un hype assurdo per Warcry, quindi grazie di avercelo fatto conoscere. Vi faccio vedere un pochino la stessa dentro, dopo la sigla... Lo apro, e tra l'altro ho anche imbottito bene, è normale, fino a che mandi una scatola di miniature la puoi anche imbottire con la carta, è difficile che si piallino, anche se casca per terra o cose del genere. All'interno ci ho messo un'altra volta il segnalibro e il braccialetto dei vent'anni della Black Library, così, fino a ogni ordine ce ne mette uno, ma arriveranno braccialetti, appigliarmi tutto il braccio, bellissimi, il segnalibro, e poi, come detto precedentemente, abbiamo preso la Warband di Warcry dei Corvus Cabal, che sono quelli che parti... Allora, a me personalmente mi piacciono veramente da morire come stile, però erano la Warband preferita, una delle due preferite di mia moglie, e ha preso queste. Come detto, successivamente prenderemo anche Nighthound, per me la Briar Queen, gli Spettri, e per mia moglie le Daughters of Cain. Tanto lo so come andrà a finire, ce le faremo tutte le bande di Warcry, e questo ci faremo un video dedicato a parte e vi faremo vedere tutti quanti montati e successivamente un video a parte che vi farà vedere come colora il capo direttamente. Quello vi farà vedere tutti i passaggi in uno speed painting. Apothecary White, che è un contrast. Questo è uno Shade, invece, il Null Noil. Gortor Brown. Korn Red. Sangue al Dio del Sangue. Teschi per il Trono di Korn. Il Bane Blade Brown, che praticamente sarebbe il colore per fare il Bane Blade, che è il carroarmato più grande, è una fortezza movente, se movente, della Guardia Imperiale. Bellissimo. Iron Warriors, che è un colore per fare la base. Il Cadian Flashstone. Contrast Gilliman Flash. Dryad Bark. Tyrant School. Screaming School. Kislev Flash. Il Wild Rider Red. Evil Sans Scarlet, per la detta Sororitas. Skeleton Horde. Questo lo dovete usare come contrast. Gorgrun Tafur. Anche questo è sempre un contrast. Il Flayed One Flash. Il Troll Slayer Orange. Hushab T-Bone. Infine lo Zandridust. In conclusione, ragazzi, ricordo sempre, quando dovete acquistare roba appunto della GV, ma anche e soprattutto colori e cose del genere, ordinatele dalla Gioco Libreria Semola. In sovrimpressione, sempre primo link in descrizione. E al momento dell'acquisto, non ve lo dimenticate, usate il codice CORIDAN7, perché avrete diritto a uno sconto del 7%. E se superate i 70€, che non ci vuole nemmeno tanto con roba della GV, 70€ di ordine, non solo ci avete lo sconto del 7%, ma avete anche le spese postali gratuite. Quindi, noi ringraziamo ancora una volta la Gioco Libreria Semola. Grazie di cuore, grazie Corrado. E trovate il primo link in descrizione. E questa è la roba che abbiamo ordinata. A questo giro, ovviamente, ogni ordine che faremo dalla Gioco Libreria Semola vi ci faremo sempre un video per farvelo vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e alla prossima.